l'anno nuovo porta una nuova veste per l'opinionista è una nuova stagione in collaborazione con il corriere del ticino e come prima puntata per il 2021 abbiamo un ospite speciale parleremo di intelligenza artificiale e chi meglio di luca maria gambardella per parlare appunto di una tecnologia che rivoluzionerà il mondo del lavoro e il futuro dell'umanità ciao davide buonasera a tutti buonasera bene molto bene grazie tutto a posto tutto a posto beh partiamo subito con la prima domanda intelligenza artificiale la ricerca in questo ambito è importante molte stati nazioni nel mondo si stanno muovendo e stanno investendo risorse nella ricerca sull'intelligenza artificiale forse l'esempio più eclatante è la cina in quest'ambito come si posiziona la svizzera ma la svizzera è una nazione che investe in intelligenza artificiale sia nell'accademia che nelle aziende le attività di ricerca sono importanti noi poi qui in canton ticino abbiamo avuto questo privilegio tanti anni fa grazie a signor dalle molle il fondatore dell'istituto dalle molle di aver messo nell 88 addirittura un seme qui è in ticino e questo seme oggi è un istituto di 90 persone che che ha riconosciuto a livello mondiale e intorno poi a questo istituto ci sono sono cresciute attività di diverso tipo e oggi devo dire che nel panorama svizzero il canton ticino ha sicuramente un ruolo rilevante ma ti vorrei far vedere una una chicca se vuoi è questa è la prima sede dell'izia palazzo rezzonico a lugano dove oggi c'è la biblioteca e un tempo era questo pala palazzo a ferro di cavallo e oggi c'è davanti il muro dell'usi della biblioteca e un'altra chicca dai permettimela sono vado sì però non riesco questi sono i primi dipendenti io sono quello col pallone c'è l'andrea rizzoli di si vede l'andrea rizzoli nuovo direttore di fianco se c'è benedetto le pori a destra insomma qualche altro collega qui eravamo proprio agli inizi erano probabilmente ai anni 90 e il gruppo era diciamo piccolo molto affiatato e poi da lì siamo 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 cresciuti ma aspetta questa questa tua passione però per il pallone mi torna nuova sai perché io non sono un non solo uno specialista in intelligenza artificiale e tendo un po lavorare per stereotipi cioè chi lavora in quell'ambito della tecnologia magari non si diverte col pallone invece no no io sono sportivo e tifoso cioè oggi un po meno sportivo ma rimango rimango tifoso anche di di diciamo materie calcistiche quindi no no non mi faccio mancare niente anche lì ma in in tutti i tuoi in tutti i tuoi anni di esperienza che tuttora proseguono che secondo te che cosa quali sono stati i cambiamenti più epocali in ambito di intelligenza artificiale magari quei momenti che hanno proprio segnato eh l'evoluzione della tecnologia guarda eh ripercorrendo la storia quando abbiamo iniziato noi veramente si risolvevano quelli che si chiamavano i toy problems i i problemi giocattolo quindi prendere un po di lego creare delle delle strutture interpretare frasi corti del del linguaggio naturale in iniziavano a quei tempi anche le reti neuronali quindi cercando di di utilizzare questi algoritmi di apprendimento in che anni siamo più o meno se ti ricordi siamo gli anni 80 un po l'intelligenza artificiale è nata è nata prima e quindi anche il termine e degli anni degli anni 50 però le attività di ricerca erano così concentrate sul capire come estrarre alcuni meccanismi di ragionamento dell'essere umano anche argomentazioni logiche e metterle all'interno di una macchina uno dei problemi che c'era era la lentezza quindi questi algoritmi pur diciamo di base potenti avevano il difetto che poi per processare quantità di dati grosse ci volevano dei mesi no quindi erano erano diciamo utili per l'accademia per provare alcune cose erano meno utili nel mondo dell'industria cosa è capitato però verso il 2010 2012 anche con il contributo nostro è perché al dalle molle ai tempi abbiamo contribuito a questa questa idea sono state prese quelle schede grafiche che si usavano per i videogiochi si chiamano gpu sono schede che inizialmente servivano ad accelerare operazioni grafiche come zoom diciamo di distorsioni e si è capito che era possibile mettere su ognuno di questi piccoli processori un pezzettino diciamo di cervello artificiale velocizzando tantissimo l'apprendimento di questi di queste macchine qui da quell'anno lì se vuoi un po noi diciamo che l'intelligenza artificiale è uscita dall'accademia ed entrata poi nella nostra vita di tutti i giorni a proposito di questa ma la vita di tutti i giorni molti molti di molte persone pensano alla intelligenza artificiale come un qualcosa che verrà però ci sono già è già applicata magari già da anni magari gli strumenti quotidiani in oggetti quotidiani in applicazioni quotidiane che noi utilizziamo da anni non rendendoci conto che magari già quelli hanno un seme di quell'intelligenza artificiale che noi vediamo nel futuro ma guarda forse oggi una delle cose più evidenti è la traduzione automatica no quindi tutti quei processi quegli algoritmi che traducono da una lingua all'altra oggi tanto tanto per dire vengono addestrati presentando alla macchina i testi tradotti in due lingue quindi la macchina vede testi tradotti in due lingue magari da esperti quindi sono testi anche di legge della comunità europea libri romanzi quindi tradotti da professionisti e la macchina in qualche modo impara a correlare questi due questi due testi e la capacità di traduzione è diventata veramente efficace però ti voglio dire una delle cose che ci ha aiutato inizialmente è stata questo termine intelligenza artificiale che ci avvicinava molto alla fantascienza quindi partendo da asimov che io io diciamo leggevo quando ero ragazzino in poi c'erano queste macchine che erano avevano i superpoteri la superintelligenza in più erano magari uomini cioè quindi avevano erano dei 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 superuomini e si parlava sempre di intelligenza artificiale ma allora qual è qual è il tema si vede parlavamo di intelligenza artificiale oggi però nell'era di oggi io sono più convinto che noi stiamo facendo un'altra cosa che si chiama informatica avanzata sempre io quindi per distinguerci anche un po' da questo mondo se vogliamo un po' un po' un po' fantasioso dove poi le macchine prendono il potere diventano potentissime fanno supercalcoli poi si innamorano oggi secondo me quello che riusciamo a fare nel mondo di tutti i giorni è di portare soluzioni di informatica avanzata quindi delle soluzioni che si basano si su su si ispirano sempre a come l'essere umano c'è ragiona e pensa ma alla fine è dell'informatica e della statistica mi aiutami a capire meglio la differenza per l'uomo comune per l'uomo della strada perché oggi per le due cose si usa lo stesso termine quando uno vede un film di fantascienza dice intelligenza artificiale quando parla delle soluzioni della traduzione automatica parla di intelligenza e questo crea sicuramente un po di confusione anche nelle aspettative e nelle prospettive quindi io penso che oggi noi siamo molto più concreti risolviamo problemi reali con delle tecniche avanzate però è è dell'informatica non è della magia quindi mi piace oggi oggi spendere di più questo termine piuttosto che ecco che correre dietro a queste derive dell'intelligenza artificiale che conquisterà il mondo della fantascienza forse un pochettino siamo un po condizionati insomma siamo un po condizionati da questo a questo dalle letture dei film insomma poi quello che non si conosce solitamente si teme quindi si cerca se si dà sempre una connotazione negativa una connotazione distopica alla tecnologia piuttosto che una connotazione utopica poi d'altronde penso che sia anche l'essere umano che poi di fronte alla cosa e le cose poco conosciute da un po delle interpretazioni distorte ma so che tu hai altri oggetti con te perché so che prima ho visto un paio di cose sì no ti faccio vedere dai io io diciamo storicamente le prime cose che ho studiato sono degli degli algoritmi ispirati alle formiche qui c'è un formicone vedi è bello questo è bello erano proprio i primi studi dei miei dei miei primi anni l'idea era un po di ispirarsi a come le formiche cercano il cibo quindi rilasciano questo ferromone per terra ma in una maniera molto distribuita lì non c'è il grande capo che dice ad una formichina vai a sinistra vai a destra però loro sono in grado di organizzarsi come colonia sfruttano questo ferromone lasciato per terra dalle altre formiche per portare il cibo verso il nido e io con un paio di colleghi ai tempi abbiamo preso questa idea l'abbiamo messa dentro al computer pensando un po queste formiche come dei camion che devono trasportare della merce ma non sanno bene dove andare inizialmente quindi sempre dentro al computer si fanno delle simulazioni di trasporto usiamo anche noi dentro una macchina questo ferromone artificiale per permettere diciamo dare dare più peso alle strade più interessanti e dopo qualche decina centinaia di interazioni questi algoritmi sono capaci di consigliare poi una azienda sul percorsi più corti da fare quelli con meno traffico quindi fanno quella che noi chiamiamo dell'ottimizzazione sì quindi in questo caso la natura ha ispirato un diciamo un miglioramento nella vita quotidiana sì non è solo questo caso è diciamo ci sono proprio questa classe di algoritmi che si chiamano biological inspired quindi si ispirano qualcuno anche agli algoritmi genetici quindi alle alla teoria dell'evoluzione di darwin o appunto questo sistema formiche proprio perché nella natura ci sono delle 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 situazioni che per la loro per la loro diciamo capacità e per la loro non voglio dire complessità ma sono in grado di risolvere problemi in una maniera interessante per il ricercatore che osserva e prende ispirazione mi 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 sorge mi sorge una domanda ci siamo già ci siamo già incontrati siamo già parlati ti avevo già intervistato e in quell'occasione abbiamo parlato anche della tua parte creativa la tua parte artistica di la tua professione di scrittore prima hai parlato di come osservando il movimento delle formiche avete preso diciamo spunto parliamo così diciamo di ispirazione come tu hai detto per andare a risolvere un problema quanto è importante in questo caso la creatività cioè il pensiero divergente il pensiero laterale quello che forse ancora noi esseri umani abbiamo a differenza di un algoritmo ma guarda il ricercatore vive vive su quella su quella frontiera no perché deve essere solido nelle basi teoriche delle basi scientifiche però è sempre lì che si affaccia verso questo mondo delle cose che che non che non ci sono e li trova diciamo dell'ispirazione e li trova poi diciamo il passo scientifico successivo no io non sono diciamo quelli che hanno questi passi troppo grandi queste scoperte scientifiche secondo me sono bravi ma anche un pochino fortunati no la 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 metodologia classica è proprio base solida vivere nella zona di non conforto no dove dove ci sono delle 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 scoperte nuove e lì poi entra chiaramente la la creatività no perché da una idea copio le formiche a scrivere nel codice e poi farlo funzionare e poi provarlo eccetera eccetera ci vuole poi tutto tutto un percorso che 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 poi porta diciamo a essere poi riconosciuti in questo campo ma c'è sempre una visto che è attuale in questi giorni a questo ultimo tempo la notizia di Elon Musk che vende tutto per andare a costruire a me piace c'è un pizzico di c'è un pizzico di follia nella scienza ma diciamo follia follia nel senso di di come ti raccontavo prima sicuramente perché ciao a noi piace tenere l'asticella alta no quindi quando ma non ci divertiamo se no se tu parli con i ricercatori loro sempre hanno un sogno un'idea nuova qualcosa che stanno esplorando perché questo è la base dello stimolo poi diciamo della creatività lui probabilmente può associare le idee anche ad ad un patrimonio che gli che gli permette no di di diciamo lui diciamo si può permettere anche di sognare più in grande di noi no però però questo 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 modo suo di essere è interessante però perché lui in fondo è un imprenditore lui non è lo scienza lui lui è alla fine di questo percorso non vede scienza per aumentare il le conoscenze dell'umanità solo lui vede anche business e io trovo che questo modo di di porsi dal dal cioè tesla agli ultimi razzi no sono tutte cose che contribuiscono sia agli aspetti scientifici perché per fare queste cose ci vuole tanta 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 scienza dietro però lui diciamo ha questa visione anche commerciale che secondo me è interessante tu lo faresti venderesti tutto per andare a costruire case su mar io qualche qualche passo così un po più prudente l'hai fatto l'ho fatto recentemente con questa nuova 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 cioè società che si occupa di intelligenza artificiale chiaro che ma dico non dico di no però mi piacerebbe che ci fossero le condizioni per cominciare quindi un po di piedi per terra sì ma lui penso che abbia i piedi per terra ok mi collega un attimino visto che abbiamo parlato anche di competenze che non sono strettamente scientifiche di creatività per esempio di capacità di vedere le cose di sapersi di farsi ispirare da quello che succede nel mondo parliamo un po di competenze perché è da tanti anni ormai questa parte forse quest'anno l'anno scorso in maniera ancora più accelerata che si parla di competenze diciamo del futuro perlomeno competenze vecchie competenze nuove quali quali tipi di capacità dovrà avere dovrà iniziare a coltivare il giovane di oggi per essere competitivo nel mondo del lavoro fra fra qualche anno se dovessimo scegliere un panel di non dico un consiglio ai ragazzi perché penso che si possa anche parlare di se dovessimo scegliere un panel di competenze quali potrebbero essere necessari nel futuro allora intanto vorrei spendere due parole sulla sulla capacità del canton ticino anche di formare persone nel nostro campo noi abbiamo sia in usi un master di intelligenza artificiale i supsi un bachelor di data science e intelligenza artificiale quindi chi vuole chi vuole studiare queste queste materie lo può fare tranquillamente presso l'università del nostro cantone io trovo che allora immaginandomi questo mondo che che verrà dove sicuramente ci troveremo confrontati con delle macchine intelligenti e quindi io dico sempre avremo su una mano un computer con intelligenza artificiale con l'altra però dovremo essere capaci di di trattare col nostro col nostro cliente in una maniera più empatica però dobbiamo aumentare anche il senso critico dei nostri ragazzi perché affrontare una diciamo adesso dico conversazione ma sarà così un dibattito dove da una parte c'è una macchina magari specializzata in un settore verticale non sarà facile allora io dico di non trascurare quella che io chiamo la cultura quindi materie ancora solide come la storia la filosofia l'italiano sono materie che rendono i nostri giovani a livello culturale solidi quindi capaci di discutere di aumentare il loro senso critico anche verso le cose tecnologiche quindi oggi è ovvio che una formazione tecnologica è sicuramente interessante però non non trascurerei di complementarla con questo altro tipo di bagaglio culturale perché sicuramente sarà molto utile per i nostri ragazzi domani quindi se ho capito bene il futuro è l'intelligenza artificiale ci aiuterà nel prendere nel fare le scelte giuste ma poi la capacità di interpretare i dati che arrivano sarà sempre comunque onere dell'essere umano cioè capacità dell'essere umano ma io mi auguro sempre così cioè la macchina ci fornerà scenari dati interpretazioni poi di per le cose più importanti sarà l'essere umano che dovrà prendere le sue decisioni se no andiamo verso una cioè deriva che non che non ci interessano e quindi alla fine sarà sempre l'uomo a fare la scelta giusta sbagliata forse sarà più probabile fare quella giusta ma adesso voglio dire su su poi per certe cose magari di meno di meno valore mi immagino che poi le macchine possano prendere qualche decisione anche loro no però spetterà noi poi delegare quello che ci interessa alla macchina e tenere diciamo per il livello di noi essere umani delle competenze e delle decisioni che pensiamo che ci competano quindi ma questo diciamo va proprio nella direzione anche di capire meglio questo tema di affrontarlo con con le 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 componenti anche metodologiche corrette ok io so che hai portato un altro oggetto cos'è accendo è accendi si vede si vede che cos'è ma questo è un piccolo robot si chiama si chiamatimio collegandoci al discorso di prima noi stiamo lavorando nelle scuole ticinesi non solo io ma con un gruppo che comprende il dfa alle pfl università di san gallo per utilizzare questi robottini per aumentare quello che è proprio il computational thinking dei ragazzi delle scuole primarie quindi cerchiamo di fargli capire come ragionano un po le macchine per stimolarli a avere un modo di ragionamento che le possa anche comprendere si ribalta un po l'immaginario cioè noi impariamo dobbiamo adeguarci al linguaggio delle macchine nei fini fantascienze dal contrario no no sì noi noi però dobbiamo dobbiamo essere capaci di ragionare in certi casi in una maniera logica per capire come come queste macchine prendono delle decisioni e questi strumenti ci aiutano a avere una una forma mentis un po più raffinata e quindi a sviluppare questo tipo di competenze quindi dobbiamo adeguarci dobbiamo imparare almeno le nuove generazioni penso che la mia generazione è esclusa cioè rimarrà ben presto senza un posto di lavoro ma guarda io oggi oggi mi sembra ancora di parlare un po di fantascienza su questo tema perché io vedo aziende che assumono tutti i nostri laureati trovano posti di lavoro ci sono un sacco di aziende che oggi si occupano anche di intelligenza artificiale di robotica quindi oggi questo settore non ha eroso posti di lavoro è chiaro che queste metodologie piano piano andranno ad intaccare un insieme di posti di lavoro che oggi noi consideriamo noiosi allora prima tanti anni fa si considerava noioso lo stare in fabbrica a martellare adesso si considera magari noioso rispondere ad un ad un call center quindi questo tipo di cioè di professione fra qualche anno saranno sicuramente gestibili anche da una macchina però l'idea è che poi le persone avranno più tempo per fare attività creative potranno anche dedicarsi a ad attività che hanno un valore un valore diverso però ecco non trascuriamo il fatto anche della della formazione continua quindi c'è bisogno in ogni caso in un mondo che cambia adesso io cito questa questo questo studio di qualche anno fa che diceva che ragazzini di 14 anni il 60 per cento farà un lavoro che oggi non c'è quindi in ogni caso c'è il mondo cambia non solo perché lo vuole l'intelligenza artificiale ma perché arriva la digitalizzazione ci arrivano tante 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 componenti e rispetto io già tu sei molto più giovane molto più giovane di meno ma noi abbiamo in qualche modo vissuto questa era di di digitalizzazione con un passo un po più lento quindi abbiamo avuto modo di adattarci più velocemente eh scusami eh abbiamo avuto più tempo per adattarci oggi dobbiamo essere più rapidi nella nell'adattamento e e questo implica anche essere capaci di di riconvertirsi nelle nelle competenze e e questo è un pochino la sfida che vedo per il modo del lavoro sì 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 ma diciamo che rispetto alla prima rivoluzione industriale dove il il nemico era ben definito era in fabbrica era una macchina adesso diciamo nella quarta rivoluzione industriale eh il nostro nemico ce l'abbiamo in tasca è un cellulare di cui ormai non possiamo più fare a meno invece il movimento luddista andava nelle nelle fabbriche a spaccare a rompere i macchinari noi di fatto eh non riusciremo mai a rompere a avere il coraggio anzi non riusciremo mai a privarci del nostro cellulare che è di fatto un po' l'emblella l'emblema della quarta rivoluzione industriale diciamo un po' più suddola questa quarta rivoluzione industriale è un po' più suddola rispetto alla prima eh però però appunto se tu tocchi questo tasto io ti dico che non puoi avere la botte piena e la moglie c'è ubriaca no questo vecchio proverbio nel senso che la tecnologia cioè ci piace ci piace essere connessi h24 ci piace ci piace poter fare un sacco di cose e poi magari ci stupiamo che questi telefonini ci stanno profilando chiaro il tema della privacy resta un tema serio ed importante no qui quindi io non è anche di più oltre al privacy per esempio adesso penso molte persone non saprebbero fare a meno di google maps per trovare il luogo di destra per farsi condurre verso il luogo di destinazione se io fossi in macchina senza un navigatore o senza il cellulare a indicarmi il giusto itinerario probabilmente ci metterai il doppio del tempo e forse non raggiungerai neanche la destinazione ecco abbiamo ucciso il senso dell'orientamento abbiamo ucciso il senso dell'orientamento e anche le cantine stradali quei vecchi atlanti che avevi in macchina sono come dicevamo prima un po questi mondo che va in questa direzione prendiamo tutti i lati positivi però qua ci stava bene il detto non c'è più le mappe di una volta non ci si diverte è più come una volta andare in macchina una domanda una curiosità usciamo da un periodo abbiamo vissuto in questi ultimi anni mesi mesi periodi un po particolari dove abbiamo scoperto che insomma la tecnologia ci può aiutare in molti molti ambiti molti campi ci può facilitare ancora siamo 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 in piena crisi siamo in un periodo ancora particolare e non si molte persone pensano che si possa tornare indietro cioè va bene è un momento di crisi non si possa o che si possa che si possa tornare indietro cioè che alla fine si beh superato questo momento di crisi la tecnologia la rimetteremo da parte e torneremo a fare le stesse cose che facevamo prima che tanto ci piacevano secondo te intanto io ho scoperto che la tecnologia in questi mesi mi ha aiutato a lavorare certo non è per le relazioni diciamo personali umane non c'è stato niente da fare perché anche questi queste queste cose via web a livello di lavoro chiaramente funzionano ma io fa primo aperitivo con i miei amici via web e poi ne hanno fatti più no perché 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 per perdere l'entusiasmo per perdere l'entusiasmo bravo fai cincin contro lo schermo però però ci siamo resi conto che c'è un modo di lavorare che può essere diverso da quello che ci immaginiamo prima io viaggiavo tanto ma penso tanti colleghi come me zurigo berna oggi non dico che faccio le stesse cose però riesco ad organizzarmi in un altro tipo di maniera io credo che se siamo sufficientemente furbi troviamo un equilibrio tra le due cose perché abbiamo forse sdoganato un modo di lavorare che ci sembrava forse quasi con un termine dispregiativo non ci sembrava un po troppo fiacco un po poco interessante e noi abbiamo anche insegnato online siamo riusciti a formare i nostri studenti lo stesso guarda che una cosa importante immagina gente avesse perduto un anno un anno di scuola un anno di università quindi insomma noi abbiamo formato studenti abbiamo lavorato chiaro che poi ci sono certe professioni che uno che ha un bar però devo dire che l'essere umano anche in queste condizioni comunque è uscito con delle trovate innovative cioè delivery la consegna piuttosto che qualcosa è vero è in dubbio che su alcuni settori come la ristorazione la crisi si abbia impattato sicuramente di più rispetto per altri settori io credo bilancieremo davide credo che troveremo questo equilibrio tra tra un modo che avevamo di lavorare prima che comunque abbiamo interrotto dal venerdì sera a lunedì mattina quindi la capacità degli esseri umani di adattamento è sorprendente però vorrei anche mettere un dito qua perché i danni che ha fatto un virus virus naturale rispetto a quelli che ha fatto l'informatica l'intelligenza ma stiamo ma stiamo veramente parlando di due di due dimensioni di due dimensioni completamente diverse quindi dobbiamo forse fare anche un tipo di riflessione su questo cioè su questo tema è assolutamente sì soprattutto perché abbiamo affrontato un virus come l'avevamo affrontato nel 1918 la spagnoa cioè da quel punto di vista lì forse diciamo da 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 chi si occupa sia di scienza che 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 chi non si occupa di scienza deve comunque fare un attimino riflettere su se eravamo pronti continuiamo diciamo siamo pronti per la digitalizzazione siamo pronti per lei ai siamo pronti ma non eravamo pronti no per l'arrivo probabilmente di un di un di un virus di questo tipo ma che ci ha preparato a un livello di digitalizzazione superiore migliore un'ultima domanda un'ultima domanda prima di prima di chiudere l'intervista nell'ambito dell'intelligenza artificiale che è l'oggetto della nostra chiacchierata comunque il cuore della nostra chiacchierata secondo te quali sono quelle due tecnologie quelle diciamo le due tecnologie del quotidiano che verranno cambiate di più dall'evoluzione dell'intelligenza artificiale allora nel prossimo futuro quello che manca oggi per esempio ai nostri robot per vivere nelle case è la capacità di manipolazione probabilmente a livello celebrale le macchine riuscirebbero a vedere capire decidere un po come fa l'alexa no e loro diciamo queste macchine sono in fondo riescono a un po a a dialogare ma sono ma sono ferme la mia non mi capisce comunque te lo dico che però manca manca la capacità delle di queste macchine di manipolare il mondo nostro dei nostri oggetti quindi quell'evoluzione lì quindi la capacità di manipolare con mani e con a basso costo e diciamo facilmente cioè riparabili è una delle cose che io mi aspetto fra 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 qualche anno quindi questo sicuramente fa parte delle cose che vedremo nel nostro nel nostro futuro più a breve termine credo appunto questa interazione uomo macchina sia verbale che che scritta si sta si sta raffinando sempre 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 di più e poi credo che diventeremo con le macchine bravi ad interpretare grosse basi di dati e in qualche modo a prevedere un po il futuro sia dei dati storici della finanza del delle previsioni del tempo quindi si andrà verso verso uno sfruttamento più intensivo dei dati storici in prospettiva previsionale e vabbè faccio un'altra l'ultimissima domanda questa e nel futuro di gambardella cosa c'è ma io guardo il presente diciamo io sono contento di quello che faccio mi diverto delle soddisfazioni ma penso che quando guardo avanti vedo vedo una una faccio sempre così no vedo sempre una continuazione di quello che faccio e poi tutte le volte mi capita a qualche cosa per cui le cose cambiano oggi oggi rimango così poi se mi intervisti fra un anno magari faccio un'altra cosa però ecco mi piace sentirmi stabile in qualche momento e così è ok grazie luca ti ti ringrazio per essere stato nostro ospite in questa nuova edizione dell'opinionista in collaborazione con il corriere del ticino ti auguro un buon un ottimo futuro ciao luca grazie